l'idea di oggi era quella di non caricare nessun episodio in quanto non mi sono svegliato all'orario giusto sono dovuto volare al lavoro subito subito quindi non mi sono potuto mettere seduto ma mi prendeva particolarmente male rompere quella routine carina che ero riuscito a mettere su perciò ho deciso di caricare questo piccolo episodio extra che è solamente una una registrazione fatta in nel furgone per comunicarvi una piccola novità che spero accogliate numerosissimi allora ho creato il canale ufficiale di telegram di oro e spero che da questo possa anche venire fuori un gruppo di telegram dove possiamo parlare e naturalmente scambiarci le nostre idee le nostre opinioni e in modo tale che voi possiate avere un feedback diretto col sottoscritto un dialogo in cui possiamo appunto scambiarci delle opinioni sugli episodi su tutti gli argomenti che andremo a trattare nel corso appunto delle puntate future il canale si chiama oro podcast potete trovarlo appunto al scrivendo telegram punto me slash oro podcast quindi niente accorrete numerosi che lì naturalmente posterò subito tutte le tutte le pisa tutti tutti gli episodi tutte le puntate precedenti se non li avete ascoltati e così potrete avere un link diretto per spreaker se non avete voglia di intasare col mio assurdo podcast il vostro aggregatore la vostra applicazione o quel cacchio che usate bene direi che posso chiudere dopo pochissimi minuti senza montaggio senza niente spero che insomma abbiate passato una buona mattina anche senza di me perché io lo so che vi manco lo so fortissimo che vi manco basta direi basta